Una vittoria arrivata al termine di una stagione esaltante, non hanno mai mollato e adesso sono qui, pronti a raccogliere i frutti del proprio lavoro. Gioia incontenibile dei protagonisti, vincere la UEFA Champions League è roba per pochi eletti, un traguardo da festeggiare da cui ripartire. Sono scena e le brividi, sono immagini bellissime, con i calciatori che si abbracciano quasi increduli, invece tutto verde.